buongiorno principesse, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, nuovo get ready with me realizzato con i prodotti ELF che mi avete visto spacchettare qualche video fa ho deciso di fare questo video per mettere questi prodotti alla prova io spero che il trucco vi piace, veramente semplicissimo, occhi molto semplici, labbra intense come al solito non mi voglio dilungare più di tanto e spero che il trucco vi piaccia e vi lascia il video no 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 Grazie a tutti. E questo è il look finito, io spero davvero tanto che vi piaccia, a me piace molto perché rispecchia molto i miei gusti di questa estate, perché se ci avete fatto caso negli ultimi video, nei video che ho fatto durante questi ultimi mesi, il mio trucco bene o male è sempre stato lo stesso, quindi sguardo molto luminoso, labbra belle e intense e il resto del viso molto semplice e essenziale. Quindi a me piace veramente moltissimo, spero davvero tanto che piaccia anche a voi, qualsiasi domanda scrivetemela qua sotto e ci vediamo al prossimo video, un bacione grande, ciao!